a me che sono innamorato di questi colori qui mi avete fatto male mi avete veramente rotto il cuore non posso accettare di uscire in questa maniera qui una persona che stasera viene a dire anche se interista la colpa del barcelona la colpa di quei mercenari spagnoli hanno snobbato la partita non solo pareggiato non si capisce cosa significano questi colori non si non capisce cos'è la storia dell'inter se pareggi in casa contro il PSV Eindhoven non meriti di passare questo girone io non lo posso capire dopo l'1-1 abbiamo fatto girare il pallone non siamo più stati aggressivi abbiamo giocato per il pareggio mentalità di perdenti ma ha cominciato già questa settimana ho visto che il mister spalletti ha provato di trovare scuse già prima e se me l'avessero detto a settembre che arriveremo fino alla fine a giocarcela avrei subito messo la firma questo lo puoi dire da tifoso ma non da allenatore prima di una partita così mentalità sbagliata mentalità sbagliata perciò oggi è giusto che usciamo barcelona e che era chiaro che non che non se la giocava il mille per cento ma hanno fatto il loro dovere hanno pareggiato e noi dovevamo vincere punto e basta e questo non l'abbiamo fatto perciò mi avete veramente fatto male male al cuore e ripeto una persona che adesso dà le colpe a bachelona non capisce cosa significano questi colori qui non lo capisce mentalità completamente sbagliata tutta la colpa è nostra e parliamo un attimino di asamor ragazzi io mi avete fatto male veramente io non non sono in una situazione adesso che mi posso arrabbiare sfogare gridare forse mi farebbe più 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 bene ma sento un vuoto dentro di me una delusione una una tristezza incredibile perciò non posso neanche adesso insultare gridare asamor posso solo dire una cosa questo tipo di errore lo sta facendo da settimane io l'ho detto in 150 video in 150 video l'ho detto asamor comincia sempre il dribbling davanti la nostra porta una cosa che neanche i bambini di 12 anni fanno se c'hanno un allenatore glielo spiega se stai vicino alla porta non cominci il dribbling butta la palla fuori con i piedi quadrati come fa d'ambrosi buttalo via ma non cominciare il dribbling non cominciare il dribbling e asamor ogni volta comincia il dribbling in serie a forse alcune volte perché c'ha la fisicità sembra il vestling fa un combattimento riesce ancora a salvarsi ma in champions league non va così in champions league bastano due passaggi poi è gol asamor scandaloso 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 non mi però mi fa bene forse scandaloso non lo posso capire veramente non lo posso capire sembra che c'ha un magneto ai piedi ogni volta comincia il dribbling nella nostra area ma perché i nostri tersini sono malati da anni questo sano masochismo cosa ha fatto di male nella vita cosa ha fatto di male quest'anno festeggiato in 100 video che finalmente ci arriva un buon terzino e ci arriva questo qui grande giocatore di esperienza della juventus e da tantissime partite sta facendo in ogni partita questi errori certe volte è andata bene certe volte non è andata bene io veramente non c'ho parole veramente non c'ho parole basta ragazzi chiudiamo qui questo video ripeto un vero interista che è orgoglioso di questi colori qui oggi ammette che è colpa nostra che è solo colpa di questa squadra qui dovevano giocare per la vittoria anche dopo quel gol io l'ho visto è stato un gol strano ovviamente sono stato contento i gol i cardi grandi cardi quattro gol in sei partite tutti quelli che lo criticano muti 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 inoltre ha giocato anche molto oggi per la squadra ha fatto anche quattro tre quasi assist dove poi chiaro non c'è gente come porca valeo che tecnicamente sono fuori ma quando entrano in aria gli esce la merda dei pantaloncini non riescono neanche più di fare un tiro comunque i cardi la sua partita l'ha fatta cosa volevo dire non so neanche più cosa volevo dire asamoa scandaloso veramente l'unica cosa ragazzi io veramente in tutti i video insultato spalletti mi sono arrabbiato con spalletti anche adesso ovviamente tutti diranno come mai ha tolto politano che anche lui ha fatto il partitone matteo ti amo non sono gay ma ti amo veramente matteo partitone partitone un'altra volta ma quello alla fine ragazzi è stato morto è stato veramente morto non poteva più camminare anche quando è uscito si ha visto ha giocato come se avesse tre o quattro polmoni veramente è corso come un pazzo questo politano quanti diretti duelli diretti che ha fatto quante volte è entrato in aria ha fatto anche quel grosso bellissimo per i cardi perciò capisco tutte le critiche spalletti mentalità di perdente il cambio di politano oggi non mi arrabbio così perché è stato veramente mezzo morto il modo poi come abbiamo giocato belli defensivi versalico a destra d'ambosio indietro tenere tanto la palla il modo è stato sbagliato assolutamente ma dato di fatto di mettere fuori politano forse lo capisco perché è stato veramente mezzo morto un'altra parola all'autaro martinez che tutti sempre lo vogliono chiedere inoltre ragazzi una persona scostumata l'autaro martinez perché o biapri ho sentito di tantissime altre persone non da mai autografi non saluta mai i tifosi una persona viziata e arrogante e devo dire che l'autaro martinez oggi quella situazione lì da alla fine da da sei metri da da sei metri non riesce di metterla sulla porta perciò l'autaro martinez fatti una doccia un po di di sei giovani deve ancora imparare tantissimo e noi dobbiamo andare piano ovviamente anch'io voglio che gioca di più che giochiamo con due punte che già siamo più flessibili ok però andiamo piano anche con questo ragazzo deve ancora tantissimo imparare soprattutto a livello umano e mi è deluso oggi in quella situazione non riesce neanche da sei metri di metterla sulla sulla porta in generale io a me queste cose sono sempre importanti sul comportamento con i tifosi non lo posso accettare non lo posso accettare c'è un'arroganza una grande arroganza non mi piace ragazzi molto molto deluso sempre e solo forza inter che vi devo dire mi avete rotto il cuore un abbraccio a tutti i fratelli nerazzurri vi amo ciao ragazzi grazie a tutti